Cari amici, dovete uscire subito di casa e andare a comprare qualcosa in occasione del Black Friday. Il Black Friday è il giorno degli sconti e secondo i soloni dei giornali, la massa che si riversa nei negozi per acquistare l'ultimo modello di telefonino è il simbolo della vittoria, del turbocapitalismo, anche detto neoliberismo vorace. Secondo Costoro il volgo acefalo si riversa nei negozi perché è schiavo della pubblicità, schiavo inconsapevole della pubblicità. Però c'è qualcosa che non torna in questo ragionamento, che vede le persone come una massa appunto acefala che ha il bancomat al posto del cuore. Andiamo per gradi e per punti. Primo punto, volgo acefalo mica tanto perché se vanno a comprare, se andiamo a comprare gli oggetti quando sono scontati, vuol dire che ci abbiamo pensato bene prima di aprire il portafogli. Probabilmente l'editorialista medio sarà così coglione da andarsi a comprare lo stesso oggetto nei giorni in cui è a prezzo pieno per evitare la calca che è così volgare. Ma non è solo questo. Se anche non fossero raggiunte le cifre astronomiche che vengono prospettate per la giornata di oggi, si dice 2 miliardi e 300 milioni, più l'online che sarebbero altri 800 milioni, se anche queste cifre non venissero raggiunte, oggi io camminavo per Milano e i negozi non erano pienissimi, anche perché piove, in ogni caso sarebbe un affare per tutti perché il negoziante svuota il magazzino, l'impiegato del negoziante, il commesso, rinsalda il proprio posto di lavoro e il cliente si può permettere un piccolo o grande lusso in più. C'è qualcosa di male in questo? Non mi sembra proprio. Ma terza considerazione, chissà cosa pensano i sostenitori della decrescita felice, cioè quelli che, come ad esempio il nostro ministro Di Maio, credono che il nostro modello di consumo sia sbagliato, sia eccessivo, che le macchine dell'economia vadano troppo veloci e che quindi bisogna rallentare. Probabilmente quella massa di persone davanti ai negozi in fila per comprare l'ultimo modello di cellulare suggeriscono che la decrescita infelice sarà solo quella dell'elettorato di Di Maio qualora continuasse nella sua linea, ad esempio quella di chiudere i negozi alla domenica, i negozi centri commerciali alla domenica.